La prima Juventus del dopo veterani dimostra di poter guardare al futuro con ottimismo. Persiteves, Pirlo e Vidal ci pensano ai nuovi acquisti Mandzukic e Dybala ad affondare la Lazio. Primo tempo senza particolari emozioni, altra musica nella ripresa dove la Juventus sale in cattedra dimostrando ai biancazzurri che anche quest'anno sarà lei l'avversaria con cui fare i conti. In 5 minuti Mandzukic e il neo entrato Dybala chiudono la pratica regalando il primo trofeo della stagione ad Allegri che si gode l'ottima prestazione della retroguardia su cui svetta Bonucci e i tocchi magici del suo nuovo 10. L'onnipresente Pogba, praticamente mai pericolosa la Lazio, Pioli avrà ancora da lavorare per farsi trovare pronto il decisivo playoff di Champions contro il Bayern Leverkusen.